E' giunto il momento! Oggi si va a caccia di gelati sotto questo cielo stellato ragazzi miei, quanti fuochi d'artificio! Ci siamo! Bello ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video mattutino! 25 luglio, cosa significa? Epic Games è ufficialmente andata in vacanza! E ci rimarrà fino all'8 agosto circa, quindi ragazzi miei, se avete qualche idea da portare qua sul canale, qualsiasi video, anche su altri game, è il momento giusto per testare nuovissime cose assieme! Fatemelo sapere qua sotto nei commenti! Non so se ne eravate già a conoscenza, ma dall'ultimo aggiornamento possiamo avere del gelato infinito su Fortnite! E ci ho già dedicato uno shorts, ma comunque sia, un video va fatto! Anche perché ancora ci sono un po' di dubbi e dei mega punti interrogativi riguardo adesso! Per prima cosa, dove devo recarmi per avere del gelato gratuito? Dove trovo Cornetto, Lil Whip, che è proprio lui l'artefice di tutto ciò ragazzi miei! Infatti non sarà più a Cornetti fluttuanti! Aspetta, non era Crocevia Conici quello? Una delle tante location sarà Circuito Chunker, se io non ci voglio credere raga, non ci voglio credere, l'ho già trovato qui! No raga, che fortuna, che fortuna, che fortuna, che fortuna! Aspettate, godetevi questo momento! Madonna, che scatole! Ma li vedete? Fatemi prendere qualcosina ragazzi miei, due secondi eh! Giusto due secondi... Uh, mi sta aiutando lui! Non ci credo! Aiuta fratellino Cornettino, bravissimo! Sì ma... Ma funziona sto... AR? Ok? Dov'è? 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 No, no, no! Non ci posso credere ragazzi! È felicissimo! Ed anche io, vi dico la verità, sono parecchio felice! Tra l'altro mi trovo sul laboratorio, quindi... Di solito alcune cose non funzionano come gli NPC! Non lo so ragazzi! Ma comunque sia, l'ho beccato al primo tentativo! Perché raga? Perché lui si può trovare in ben 6, 7, barra 8 posti diversi! Sta a significare che cosa ragazzi miei? Che magari state guardando questo videozzo, vi recate a circuito Chunkers e neppure lo riuscite a trovare! Perché magari sarà in un'altra zona, in un altro POI! Apriamo quindi velocemente la mappa! Dove possiamo trovarlo oltre a circuito Chunkers? Beh, io vi consiglierei di visitare i Jones, Bobine e Brulle! Vedete la stazione di servizio proprio alla destra delle cascate della realtà? Ecco, anche le di fronte ragazzi ci sarà la possibilità di trovarlo! Questa mini spiaggetta dove era ambientato l'ultimo shorts riguardo ai gelati? Ecco raga, praticamente qui ci sarà un party on the beach, quindi una festa sulla spiaggia e ci sarà anche il suo carretto dei gelati! Tana strana ragazzi, vedete questa benza, questa stazione di servizio proprio qua su, quindi a nord di Tana strana! Mi hanno detto anche il Daily Bugle, però sinceramente non ho controllato! E l'ultima location dovrebbe teoricamente essere stretto sonnolento, ma la maggior parte delle volte ragazzi io l'ho beccato al circuito Chunkers e poi a sinistra della cascata della realtà, quindi sulla spiaggia! Mi raccomando, codico Martex e la tienda di Fortnite e la tienda di Rocket League, qualsiasi gioco Epic Games voi vogliate potete utilizzare questo codice ragazzi! Funziona dappertutto, ovviamente sullo store Epic in generale! Ma comunque sì ragazzi miei, vediamo, scopriamo assieme che cosa accade nel momento in cui ci avviciniamo a Cornetto! Guardate, lui è sempre così, strafelice di donare gelato a tutti quanti e soprattutto li testeremo uno per uno, ecco, ecco, in procedimento di lanciare il primo, grazie! Cono gelato, basic, vai col secondo, cono gelato, super basic, il terzo uguale, va bene, lancia dell'altro! Dai, è il quarto cosino! Dai, aspetta, 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 mi allontano magari cambia, ma ti piace tanto questo? Oh, finalmente l'ha cambiato, grazie mille! Che cosa abbiamo qui, cono gelato e ghiacciato? Ma secondo voi, camperando in uno dei punti in cui si trova Lil Whip, quindi Cornetto ragazzi, farmando tutti questi gelati, si potrebbe pensare ad una nuova modalità di vittoria reale? Cioè, nel senso, io me la campero qui, magari vado anche a pescare, a secondo di quanta vita può rigenerare un cono gelato, io adesso ho 55 punti vita, Secondo voi, riusciremmo ad arrivare a fine game? Sarebbe da testare questa cosetta? Esempio, prendo lui, no? Da 55 di vita, a quanto passo? 60! No ragazzi, è buono dai! 5 di vita, è praticamente una mela! È buonissimo, raga! Considerando anche il fatto che questa cosa è infinita! Io però adesso vorrei testarli assieme a voi, perché guardate un po' che cosa ha combinato! Quindi, prendiamo il cono gelato basic, poi prendiamo il cono gelato piccante, andiamo con il cono gelato ghiacciato e poi il cono gelato trangugio! Ragazzi, ben 4 gelati diversi! Vediamo che effetto attribuiscono al nostro personaggio in game! Lui continuerà a lanciare, guardate, ci segue, ci segue, ci segue, è un amicone ragazzi, è l'amico di tutti in battaglia reale! Eccoli qui, li abbiamo schierati uno a fianco all'altro, partiamo dal cono gelato basic ragazzi! Questo andrà a conferire solamente ben 5 punti vita, quindi praticamente è come se fosse una mela! Ragazzi miei, ecco fatto, niente di che, nessun effetto su di noi! Il cono gelato super peperonato invece, ragazzi miei, e vabbè, e vabbè, questo è davvero OP! Oltre alla vita, ci darà anche un bel po' di boost a livello di velocità! Per i punti vita credo che siano sempre lì! Il cono gelato trangugio invece, vediamo un pochettino ragazzi, non so davvero che cosa aspettarmi! Testiamolo, aaaah, va benissimo, va benissimo, questo cura davvero veloce! È praticamente la boccetta medica della scorsa season! Concludiamo con il cono gelato ghiacciato, questo, beh, non lo so ragazzi, ho brutti ricordi! Guardate un po', e vabbè, e va bene così, dai 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 dai! Oddio, magari per fuggire dalla tempesta e da qualche nemico però, difficilmente accadrà eh! Vorrei dare un piccolo consiglio a tutti coloro che decideranno di recarsi sulla parte ovest della mappa, quindi su questa costa, belli miei! Perché sicuramente effettuando il vostro landing vedrete il carretto dei gelati in lontananza! Beh ragazzi, non voglio scoraggiarvi, ma non è lui quello originale! Perché quello di Lil Whip, quindi cornetto, ribadiamo, si troverà proprio lì ragazzi, a circa 70 metri dal beach party che troverete qui di fronte! Quindi sì ragazzi, non è questo qui, lo so, può sembrare proprio lui, magari qui vendono granite! Guardate, ho provato a cambiare match prima di inizio game, ci trovavamo proprio qui, vero? Adesso Lil Whip è scomparso, quindi tocca vedere dove si è spostato! Vi ho già detto che ci saranno almeno 6, 7, 8 luoghi diversi in cui trovarlo, quindi in ogni partita, belli miei, bisogna avere solamente un pizzico di fortuna! Mannaggia a questi corvi e qua non li hanno implementati ragazzi! Non si può registrare questo sound! Vi inseguono, vi chasano fino al midollo, è incredibile questa cosa! Eccoci ad esempio qui a stretto sonno lento, ragazzi, è una feature di questo update che mi sta piacendo troppo, vi giuro, sto amando cornetto che lancia gelati ovunque, praticamente a tutti i passanti di questo game! È meraviglioso, è troppo simpatica come cosetta, non lo so raga, voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere qua sotto, tra i commenti, è bellissimo, super puccioso, meraviglioso ragazzi, ma guardate quanto è gentile e cordiale con tutti quanti noi! Mi raccomando, mentre lui lancia gelati ovunque... Oh, what? Aspetta! E questo da dove esce? No! Non ditemi che ci sia anche una percentuale bassissima di trovare un cornetto speciale rispetto a tutti gli altri! Cos'è lui? Ho trovato un cornetto dorato, raga! What? Non l'ho mai visto! Oh mio Dio! Che sta accadendo, raga? Stavo concludendo il video! Vi stavo dicendo di lasciare un bel pollicione all'insù mentre lui lanciava i cornetto e mi lancia il cornetto speciale! Speciale di cornetto! Oddio! No, raga, stanno accadendo troppe cose oggi, eh! What? Ragazzi, ve lo giuro, non conoscevo questo cornetto speciale! Io credevo che ci fossimo fermati a ben quattro tipologie di cornetto diverse! Così, meno male, ragazzi, mi è andata davvero di fortuna! Non so che cosa aspettarmi! Anzi, vorrei togliermi un po' di punti vita per vedere anche quanto andrà a rigenerare! Ragazzi, siamo pronti? Scrivetemi qua sotto nei commenti se siete riusciti a trovarlo anche voi! Non so davvero che cosa aspettarmi! 3, 2, 1, vai così! No, vabbè! Mi ha rigenerato tutti i punti vita e mi ha dato full shield! Ragazzi, avevo 66 HP, adesso sono 100 di scudo e 100 di vita! Lancia bene un altro le whip! Voglio quello speciale, voglio quello... No, vabbè, brota! Come si diceva, serendipiti? Madò, raga, un mega colpo di fortuna! Ho scoperto una cosa nuova assieme a voi senza neppure volerlo! Vi ripeto, io mi ero fermato ai quattro con i gelato e boom, mi troppa anche il quinto! Non sapevo dell'esistenza di quest'ultimo! Bellissimo, raga! Bellissimo! Un bel codico Martex della tienda di Fortnite per questo videozzo! Ragazzi miei, andiamo! Abbiamo ancora tutta la sezione DC qua giù, mamma mia, mamma mia! Sessione estiva e quindi i classici dell'estate! Chi preferite tra Jules da spiaggia, Prutus da spiaggia, Bombarola da spiaggia oppure Ruby Passarella e Deriva Estiva! Ovviamente c'è anche Cornetto, ragazzi, c'è anche Cornetto! Canzoncina che ci ha accompagnato praticamente per tutto il videozzo perché ero lì a sentirla in background! Ok, Lebron James, qui abbiamo Kari da 1800 di Bucks come bundle, rinnegato Astra, poi 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 infinito, leader squadra Panda, Wukong! Bellissimo, mamma mia, che bei ricordi! Stagione 2, raga! Chi se ne ricorda queste bandierine? Eri un Pro Player solo a portarle, ve lo dico, ve lo dico, ve lo dico! E poi abbiamo Cristallo Sub! Bello, bello, bello! Il backpack con un sacco di stili selezionabili, ben 12 stili selezionabili! E poi il piccone, mamma mia! Ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video mattudino! Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti se conoscevate già il gelatino leggendario! Un salutone da Martex e come al solito un bel... SIA BROTHERS! SIA BROTHERS!